Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io per l'invito e soprattutto sono anche onorato di parlare ad una platea che di solito non è nel mio ambito. Di fatto io facendo un ruolo finanziario, diciamo che qua ho visto qualche collega che conosco che aveva un ruolo simile, però mi sento anche un po' un pesce fuor d'acqua. Per qualche minuto cercherò di portarvi però ad immaginare quello che noi vediamo come direttore finanziario SFO delle vostre aziende, la sostenibilità. E quindi vi prego anche di immaginare per un momento che le vostre aziende nel magazzino non abbiano prodotti alimentari ma abbiano crediti e strumenti finanziari. I colleghi che mi hanno preceduto hanno toccato vari argomenti che secondo me sono fondamentali per stabilire quello che è il legame tra la finanza e la sostenibilità e l'andamento dell'impresa. Sicuramente oggi la sostenibilità è di gran moda ed è un tema particolarmente di attualità. Non è iniziato da pochissimo perché se guardiamo già nel 2009 un Walmart aveva fatto il Green Index dei propri fornitori. Esperimento che non è partito da un'etica perché non è che parliamo di un operatore che ha messo l'etica prima di tutto. E vorrei anche far presente che in questo contesto attuale sempre di più se si hanno contatti o meglio le funzioni simili a mie che hanno contatti con gli istituti finanziari e parliamo di sostenibilità, di ESG, hanno un approccio molto metrico e molto di misurazione. E spesso è difficile far percepire o comunque fargli misurare o fargli comprendere quali che sono anche i tempi che questi progetti possono avere. Sicuramente dobbiamo considerare che non è un qualcosa che si concluderà in un anno o due anni ma sarà qualcosa che evolverà ed entrerà nel sistema. Se noi guardiamo in quest'ottica quali sono, cos'è la sostenibilità, noi vediamo che la finanza sostenibile di fatto è l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile a un'attività finanziaria. E qui cos'è che vuol dire? Di fatto è canalizzare, indirizzare i capitali verso attività, imprese o progetti che abbiano dei contenuti di sostenibilità stessi nella declinazione classica ESG, quindi ambiente sociale e di governance, ma progetti che sono a lungo termine. Qui introduco subito una differenza, cioè parlare di strumenti ESG e parlare di strumenti green non è la stessa cosa, perché lo strumento green di fatto ha un impatto diretto su quello che è l'oggetto finanziato. Nel senso che, se faccio un esempio concreto, se parliamo di un'obbligazione green è un'obbligazione che viene emessa per finanziare un progetto specifico di transizione. Se faccio un prodotto invece ESG ha dentro delle connotazioni che di fatto vengono, l'istituzione finanziaria ti dà dei soldi e cambia soltanto la redditività o il costo di quello strumento finanziario. Questo non è da poco, perché è molto facile, molto moda in questo momento avere prodotti linked, quindi al fattore ESG, che abbassano il costo. Secondo me il settore del retail ha un ruolo cruciale in questo momento, perché è vero che ha la capacità anche di plasmare o comunque indirizzare i consumi, i comportamenti, e abbiamo visto anche nella presentazione di Andrea quali sono i macro trend, dove si potranno andare a canalizzare i consumi. Però di fatto il nostro settore ha un concetto di filiera o comunque ha un nome in testa che è distribuzione, che aggiunge complessità a questo. Perché noi di fatto siamo una parte terminale di qualcosa che c'è a monte e poi abbiamo anche qualcosa che va dopo quando abbiamo fatto le vendite. Se noi vogliamo considerare quelli che sono, e questo è un tema che ho visto anche prima, che una collega l'ha anticipato, dovremmo unire sempre di più le nostre ambizioni finanziarie a quelle che sono ambizioni di creare un impatto positivo sul pianeta e sulla società e renderci in grado di misurare quelli che sono anche aspetti di natura non finanziaria. La difficoltà è comunque che bisogna generare questi effetti con una strategia, una strategia che non sia alternativa tra loro, quindi possono essere anche effetti combinati di più cose che si vanno a intersecare. Se noi prendiamo, questa slide di fatto vi fa vedere, se noi prendiamo quelli che sono secondo me le più grosse ambizioni, vedete che nei quattro box c'è tutta la parte di normativa che è estremamente complicata e stringente e in continua evoluzione, ma di fatto non è che sta cambiando in modo radicale quelli che sono i contenuti, sta sempre di più andando a specificarli e portando sempre più concetti, banalmente l'ultima direttiva parla di greenwashing e comunque parla dagli stessi contenuti che sono nella divattiera primaria sulla CSR. L'impegno serio per creare valore è l'accesso ai finanziamenti, perché la vera cosa che noi non dobbiamo trascurare è che questo progressivo necessità o comunque utilizzo di informazioni non finanziarie sono finalizzate ad andare a creare una banca dati particolarmente grossa che renderà gli operatori che potranno accedere o non accedere a determinate forme di finanziamento. È come se il mercato arrivasse a un certo punto ad escludere qualche d'uno che non ha fatto un percorso o non ha fatto una transizione sotto certi aspetti. Il quarto tema è la misurazione in modo standardizzato e confrontabile. Qua devo dire che è vero che è complicata la misurazione, ma è complicata la misurazione perché fondamentalmente non stiamo vivendo un momento in cui tutti gli operatori, parlo sia dell'industria che i retailer o comunque gli stakeholders in generale, hanno o stanno facendo gli stessi percorsi. Ognuno sta un po' facendo con quello che ha un po' a casa sua e cercando una soluzione che sia anche, non dico tattica, ma che permetta di arrivare a determinati obiettivi. L'ultimo punto è che proprio la misurabilità e la comparabilità dei dati permetterà alle aziende di fare quello che secondo me è il passaggio cruciale, cioè avremo un vantaggio dell'uno rispetto all'altro non solo in termini finanziari, ma anche di quello che è il nostro posizionamento in termini di sostenibilità. Questa slide ve l'ho messa più che altro perché è come se tu vai a parlare con un istituto di credito ti chiederebbe di rappresentare quello che è il tuo posizionamento per avere un finanziamento. Se guardate, la parte centrale è la disclosure, dove ci sono due effetti, uno la certificazione e dall'altro il report. Sul report devo dire che bene o male tutti ci siamo. Sulla parte delle certificazioni si apre un grande punto di domanda. A destra e sinistra, ma li avremmo potuti anche invertire, c'è la strategia LSG rating. Allora, diciamo che se partiamo che la parte finale, cioè sarà ottenere tutti un rating, ma saranno anche i nostri fornitori a doverlo ottenere, con quello che saranno modelli diversi per avere un bollino, dall'altra parte quello che è molto più importante è stabilire una strategia. Una strategia che comunque in questo momento è difficile da fare perché tutti gli attori della filiera non sono in questo momento allineati sullo stesso fine. Se noi prendiamo in questo caso a confronto e partiamo e torniamo indietro e guardiamo quelle che sono le classificazioni che sono state create, qua parliamo di circa dieci anni fa, e sono state evolute ma soltanto modificate, e prendiamo l'Eurosif o i principi di investimento dell'ONU e guardiamo e scorriamo quello che è l'elenco, vedete che le strategie di investimento e le attività possono avere una logica di inclusione, cioè aver dentro qualche contenuto e quindi essere una base per includere criteri sociali e ambientali nello stesso prodotto, oppure possono essere best in class, cioè vengono stratificate o vengono misurate quelle che sono le migliori attività all'interno di un pagliere omogeneo, ovviamente viceversa ci possono essere quelle di esclusioni e qua possono essere escluse aziende produttrici di armi, alcolici, tabacco, qua non è che vengono escluse che non vengono finanziate, hanno un costo della finanza molto più alto rispetto a quelle che sono operatori che operano in mercati più etici. Convenzioni internazionali, vabbè qua sono le direttive o comunque gli standard internazionali, questo è quello che invece ci appartiene di più che è l'integrazione, cioè consiste nell'avere sistematicamente dei contenuti di Natura ISG all'interno della propria analisi. D'impatto che sono praticamente dove ci sono, dove sono finalizzati i fondi per generare un impatto positivo socioambientale e si tratta spesso di investimenti specifici. Se invece andiamo a guardare come tutti questi tipologie di investimenti vanno ad impattare si vede che non c'è che la sostenibilità è solo un costo, perché in questa tabella che ho preso dall'ESMA si vede chiaramente che i prodotti sono unità di fondi, quote di fondi di investimento comuni, si vede che in termini di costo i prodotti ISG sono meno costosi, hanno un rendimento più alto, dov'è che vincono? E vingono sul lungo andare, cioè sulla duration più lunga, perché comunque sono progetti, come qualcuno ha detto, che hanno una pervasività nel tempo più lunga. Se noi andiamo a guardare quelli che sono come si genera una crescita sostenibile e un ritorno finanziario, noi dobbiamo capire che in questo momento dobbiamo cercare di avere quello che è un accesso o comunque iniziare a pensare quella che è un'azienda di domani, in modo tale che i nuovi processi o le nuove attività che vengono svolte abbiano insite il concetto di essere sostenibili. Altrimenti andare a ritoccare quelle che sono le nostre attività correnti rischiano di essere sempre soggette ad un rischio di greenwashing o comunque di essere viste come un aggiustamento a delle normative. Ovviamente le normative sono la cornice, ma poi il quadro è tutto da dipingere perché altrimenti sarebbero soltanto tentativi di trovare delle soluzioni a un problema. Quello che è importante è generare o comunque arrivare a misurare in modo condiviso e soprattutto con parametri oggettivi quelli che sono i nostri effetti su e i progressi sull'attività di sostenibilità. La difficoltà è vera che non c'è una modalità unica di misurazione, però ci sono diverse metodologie che si stanno sempre di più andando a sommare e stanno cercando soprattutto di creare quello che è un legame tra tutti gli attori del mercato che legano le stesse cose. Se noi pensiamo alla filiera tutti viviamo lo stesso problema, redigere un bilancio di sostenibilità, misurare l'emissione di CO2. Abbiamo pezzi diversi del processo, ma tutte e due dobbiamo arrivare a dire qualcosa in questi termini. Se noi guardiamo anche le metriche, non tutti in questo momento gli oggetti che si possono misurare sono facilmente accessibili, quindi ci si sta concentrando tutti sul consumo del carbonio. Qua dentro, praticamente in questo slide abbastanza densa, devo dire che ho riportato quella che è la tassonomia per dimostrare che esiste un framework di riferimento a livello europeo dove sono inseriti tutti quelli che sono gli asset da misurare e sono sei. Sono la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti, la protezione delle acque, passaggio all'economia circolare, prevenzione e controllo dell'inquinamento, tutte le biodiversità e degli ecosistemi. Ovviamente hanno una diversa gradualità e difficoltà di interpretazione, alcuni sono totalmente fuori dal nostro controllo, però di fianco nel box azzurro vi ho dimostrato come questi oggetti vengono misurati in modo sistematico e per una volta rispetto alla logica retail il fatturato, il turnover è la parte più statica, nel senso che la logica è di misurare quanto la quota del conto economico di ogni singola impresa è fatta da argomenti green, quindi è quella che si si aspetta che possa arrivare al massimo a 100, mentre la parte delle capex, quindi degli investimenti in conto capitale, è la parte più dinamica perché va a dimostrare quanto un'azienda sta credendo in questi aspetti. Poi ovviamente ci sono i costi operativi perché non dimentichiamoci che alcuni costi ricorrenti non sono non soggetti a un'evoluzione di tecnologia. Faccio un esempio penso abbastanza attuale. Se noi pensiamo ai dati, alla tecnologia, tutti dicono è altamente inquinante, assorbe forte emissioni. Non è il problema che la tecnologia è inquinante, è la forma con cui prendiamo l'energia per far funzionare la tecnologia che è inquinante. Quindi noi dovremmo mettere al servizio la tecnologia per generare nuove fonti energetiche che siano più sostenibili per riuscire a rendere queste attività innanzitutto più accessibili a tutti, ma soprattutto più sostenibili al clima. Questo fa vedere esattamente che non è che negli anni non c'è stata un'evoluzione di quelli che sono gli investimenti o gli asset che hanno connotazioni green. Se guardate in Europa siamo arrivati a circa 3,4 trillion, 29% dei fondi totali, con una crescita del 2021 di circa il 6,5%. In Italia siamo a 0,43 trilioni di euro, 44% del totale. Se pensiamo poi al sistema Italia e guardiamo tipo la che la fanno la padrone, le due banche, i principali gruppi italiani hanno emesso e hanno triplicato l'emissione di finanziamento green o basati sull'economia circolare. Qui è per darvi quanto è la magnitudo di quelli che sono i fondi che nell'ultimo decennio l'Europa ha detto di poter mettere a disposizione della transizione energetica. Parliamo di oltre mille miliardi di euro di investimenti nel decennio e abbiamo che in Italia sono arrivati dalla BEI e dal Fondo Europeo dello Sviluppo degli Investimenti 12 miliardi nel 2023, 10 l'anno precedente. Qua faccio un esempio. Per chi di voi, ho sentito parlare prima di magazzini piuttosto che negozi, costruire un tetto fotovoltaico con una garanzia BEI costa circa il 2%, costruirlo senza garanzia BEI o senza un finanziamento BEI costa oltre il 3,75. Il problema è che un finanziamento BEI dura nove anni e quindi molto più facile da ammortizzare, un finanziamento normale non supera i cinque anni. Però per accedervi vi assicuro che c'è un capitolato che non è una passeggiata di salute o bastano delle immagini o dei dati anche sommari. Fate il conto che nella media dicono che c'è un tasso di mortalità tra quelli che vengono presi o richiesti o prenotati come fondi e quelli che vengono utilizzati del 65%. Di fianco avete visto quali che sono gli obiettivi, vi ho segnalato quali che sono gli obiettivi su cui deve andare tutta questa finanza. Qua come vedete il trasbordo è comunità europea, quindi finanza europea, sistemi finanziari italiani o comunque domestici e dov'è che devono andare? Perché comunque il sistema si deve autorideterminare e deve essere sostenibile? Perché comunque dovete pensare, come vi ho detto all'inizio, che le banche nel loro magazzino hanno i crediti o hanno investimenti nelle nostre aziende e quindi ad un certo punto anche loro vengono misurati su quello che è la loro qualità di attivi e su quali sono i risultati che portano in termini di qualità degli asset o di sostenibilità dei propri asset. prima di arrivare alle conclusioni vi ho sintetizzato secondo me quelli che vedo come i tre assi cardini di quelli che sono la strada per la crescita obbligata. innanzitutto che non si può fare da soli e quindi mi fermo al box a destra è un processo che deve essere condiviso con tutti gli stakeholder al tavolo e soprattutto bisognerebbe riuscire a fare meno ma meglio nel senso che è una dispersione molto forte di ricchezza e comunque è anche un fortissimo investimento che le aziende devono fare. La sostenibilità non è assolutamente in conflitto con la crescita anzi può essere anche un punto di partenza o anche una scusa per fare determinate tipologie di investimenti e soprattutto per cogliere delle opportunità. Comunque se non ci poniamo in una logica proattiva sarà il mercato stesso a rimisurarci. Per finire perché vedo che Cristina mi incombe vi faccio la provocazione. Nella slide sono presentate le esposizioni dei principali quattro gruppi bancari globali e si vede che praticamente a destra ci sono i combustibili flossili e il giallo e l'energia. Se guardate una stima di un alzeramento del valore di mercato di queste aziende perché sul combustibile fossile venissero buttato fuori dal mercato porterebbe una perdita dall'8 al 30% del capitale di tutto il sistema finanziario globale. Quindi non sono numeri piccoli. Per concludere diciamo che bisognerà che tutti insieme sosteniamo il futuro. Grazie. Non scappare perché adesso intanto grazie perché sono veramente temi a parte il fatto che non mi sembri un pesce ford'aco mi sembra che è notato benissimo fino alla fine perfettamente puntuali. Però sono temi fondamentali questi di cui si parla pochissimo nel nostro mondo dove tendiamo a parlare giustamente di experience anche di logistica ma pochissimo di finanza. Però voi esistete all'interno delle vostre organizzazioni e siete un po' come dire quelli che dicono no oppure sì oppure forse. Ci sopravvaluti. Allora o forse dovrebbe essere così ma Conad in tutto questo cosa sta facendo? Conad devo dire che ha diverse attività in un ottimo livello di esecuzione. Diciamo che noi abbiamo tutta una parte legata alla marca commerciale dove c'è un forte progetto dove stiamo anche che poi comunicheremo prossimamente quando saremo quando l'avremo fatto perché come mi hanno insegnato noi le cose le facciamo poi le diciamo. Comunque siamo secondo me ad un ottimo livello di completamento. Abbiamo che le nostre cooperative associate stanno facendo anche loro forti investimenti e devo dire con modalità e intensità differenti secondo quelli che sono i loro bisogni. Noi abbiamo una commissione di fatto dove ci riuniamo tutti i direttori finanziari del nostro sistema e dove spesso discutiamo apertamente di dove indirizzare le risorse. E vedo che sempre di più stiamo andando verso anche cose che non sono magari strettamente soltanto aprire un nuovo punto di vendita ma stiamo investendo anche in attività che possono rendere le aziende più competitive per il futuro. Stiamo facendo quegli investimenti di cui vedremo gli effetti forse nei prossimi dieci anni. Ecco un'ultima domanda. Tu hai fatto riferimento ai finanziamenti. Spesso si dice che gli italiani non sono tanto bravi ad attingere ai finanziamenti europei che per tutto il mondo ISG sono comunque importanti. Qual è il come dire come si fa? Qual è l'organizzazione giusta per poter lavorare in questo senso? Ma secondo me non c'è una soluzione unica. Secondo me bisogna sempre di più avvicinare le persone che lavorano nell'azienda ed essere tutti molto più vicini su certi contesti. Fare finanza ISG. Noi come Conad abbiamo fatto per primi un finanziamento ISG, un credito rotativo devo dire copiato da tanti operatori e anche da tanti fornitori. Per me è stata un'esperienza. devo dire che la difficoltà è farla appoggiare su dei dati concreti. Noi abbiamo due indicatori. Abbiamo comunicato al sistema finanziario che ci ha supportato su questa operazione quali sono gli indicatori che vogliamo monitorare. Abbiamo un decremento nel costo del tasso di interesse legato agli obiettivi. Tanto più chi gestisce ad esempio la marca, visto che sono legati a una parte alla marca, quindi Alessandra che è in sala, o tanto più alla filiera che è il nostro responsabile della qualità, più noi riusciamo ad avere un tasso di mercato. Secondo me l'importante è iniziare a pensare di strutturare, quello che ho sentito anche nel tavolo prima, delle metriche condivise che permettano di fare non solo comparazione dei risultati economici o del fatturato, ma anche di quelle che sono le migliori pratiche di quella che viene comunemente detto, la reportistica non finanziaria. Comunemente detto. Poi posso dire, non è che questa transizione, il mondo finanziario l'ha anticipato da qualche anno, anche perché aveva altri motivi, però a me ricorda tanto un percorso che è stato fatto quando sono stati cambiati i principi contabili passando agli internazionali o quando è stato fatto l'asset quality review degli attivi delle banche. Se passate di avere che ognuno a casa sua diceva quanto valeva un chilo di mele, a stabilire che un chilo di mele è un chilo di mele. Quindi adesso i bilanci, il sistema finanziario è solido, non perché è migliorato improvvisamente, ma perché è molto più comparabile ed è comparabile a parametri europei. Quindi oggi noi possiamo avere banche italiane che vanno a comprare banche tedesche e in passato io ho visto banche francesi che compravano banche italiane. Perfetto, è qui, è qui per intendere, grazie a Matteo Capelli, grazie, buon lavoro.